Una prestazione brillante per larghi tratti del suo Cesena, quelle risposte che forse cercava dai mister? Sì, abbiamo fatto molto bene il primo tempo e anche inizio il secondo tempo, l'unica cosa è il gol preso, che forse vediamo poi rivedendo la partita dove abbiamo sbagliato, però gli errori sono stati pochi, i ragazzi sono stati bravi e hanno dimostrato di essere anche in discrete condizioni fisiche, che è la cosa più importante. Si sono visti tutti insieme i tre giocatori, che saranno i cardini probabilmente dell'attacco del Cesena, assieme a Zammarchi, che ha fatto davvero una grande partita, si sono visti anche i movimenti che lei desiderava, mister? La fortuna è che sono tre ragazzi che si conoscono, hanno giocato assieme e la scelta del direttore della società è stata anche in questo senso qui, non avendo tanto tempo per lavorare, per preparare queste cose, il fatto che si conoscono, che hanno giocato assieme vuol dire, poi dopo c'è stato il lavoro del ritiro, di questi 20 giorni, che gli ha aiutato nella conoscenza, in tutte queste cose, però sono giocatori di livello e la cosa che mi interessava di più era la condizione fisica. Grazie.